Io sono Tolfo Guadalè, lavoro qua in questa azienda da più di vent'anni, sono responsabile di produzione. Abbiamo iniziato a lavorare con la prestabilitrice della Schiavi, abbiamo acquistato una seconda macchina per organizzare un po' di nuova produzione e abbiamo pensato a questa vita. È una macchina da 170 tonnellate, molto utile per quello che facciamo, anche perché sui dispessori, diciamo, piccoli managgetti, è una macchina molto veloce e molto precisa. Grazie a tutti. Ci siamo trovati bene, devo dire che siamo molto soddisfatti. La macchina, sì, è una 170 tonnellate che va bene, riusciamo a piegare anche l'8 mm. Noi l'abbiamo scelto come macchina veloce con i pezzi piccoli, però anche sui grossi spessori non abbiamo problemi, perché basta con una capola leggermente più grande, anche se sono 170 tonnellate e 4 metri riusciamo a piegare l'10 mm. Noi l'abbiamo scelto come macchina veloce con i pezzi piccoli, però anche sui grossi spessori non abbiamo scelto come macchina veloce con i pezzi piccoli, perché non abbiamo scelto come macchina veloce con i pezzi piccoli. Grazie. 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 Grazie.